Presidente Walter Taccone, ci stiamo preparando a vivere una calda estate per un nuovo allenatore, mercato, purtroppo gli ultimi fatti di cronaca ci fanno presagire una calda estate per altri motivi. No, non è una calda estate. La calda estate è arrivata oggi, perché è col caldo, ma è un caldo estivo. La calda estate per l'Avelino non c'è... io sono abbastanza tranquillo, abbastanza sereno, e quindi restiamo sereni, siamo sereni perché sicuramente l'Avelino non c'entra niente in tutto questo, sicuramente i giocatori che abbiamo con noi oggi sono personaggi in vista, ma sono personaggi pulitissimi. Mi riferisco a Mariano, mi riferisco a Castaldo, insomma, chi mette in discussione l'operato di questi ragazzi non li conosce bene, non sanno il carattere forte, determinato, serio, che hanno questi due ragazzi, insomma, sono due ragazzi d'oro, per cui ci mettere la mano sul fuoco, assolutamente, per tutti e due. La piazza sta tremando, in primis per quello che potrebbe succedere con la giustizia, poi in secondo momento per le sue dichiarazioni di un possibile addio anche da parte sua. Ma scusate, perché dovete sempre travisare le mie parole? Ieri sono stato abbastanza chiaro, non se non mi avete sentito, ve lo ripeto qui a voi. Ho detto che se dovesse succedere una cosa di questo, la prima cosa che farebbe l'uomo Taccone, non il presidente Taccone, sarebbe quello di abbandonare tutto e dire, mi avete rotto virgolette, cosa che non si può dire, basta, adesso non ne posso più. Una volta esce la fideiussione che non era buona ed è andata ovviamente a favore nostro, perché non c'entravamo niente nel discorso della fideiussione fra le ditte Taroccate, se vi ricordate bene, due o tre anni fa. Poi è venuto fuori il Catania, adesso viene fuori il Modena, veramente è una cosa, ogni anno puntualmente, sembra un refrain, c'è qualcosa che capita sempre a fine campionato, chissà perché non capita durante il campionato, capita a fine campionato. Quando le cose sono state fatte, quando ormai le inchieste sono in fase abbastanza avanzata, e mi fa piacere tutto questo che avvengono fuori delle inchieste, ma accostare il nome dell'Avellino, soltanto per un sentito dire, scusatemi, non faccio né l'avvocato né il giudice, ma è una sciocchezza clamorosa.